Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'International Pediatric Surgery Academy. Il Presidente, il Dottor Pratella mi ha dato l'incarico di fare una breve presentazione concernente una ricerca che abbiamo condotto con altri soci dell'Accademia nel corso degli ultimi anni e che riguarda la gestione, la riabilitazione implantare del mascellare posteriore ed entulo. Nuovi approcci di carattere mini-invasivo. Questo lavoro che è stato svolto con l'aiuto determinante degli amici Sergio Spinato, Teresa Lombardi e Fabio Bernardello e con l'aiuto dei professori Carlo Bertoldi, Davide Zaff e Ron Evans è culminato nella pubblicazione di due lavori sull'International Journal of Periodontics Restorative Dentistry che sono usciti l'anno scorso nel 2020. In realtà l'irrazionale, lo stimolo da cui siamo partiti per realizzare questa operazione viene dal fatto che la Sinus Consensus Conference che l'Academy of Health and Integration americana ha tenuto a Boston nel 1996, era ancora la linea guida diciamo principale per il processo decisionale che il clinico deve eseguire nella pianificazione della riabilitazione del mascellare posteriore ed entulo. E come vedete sono dei concetti che nel 2021 sono piuttosto datati. Innanzitutto si parte da una valutazione del residual bone height, cioè dell'altezza dell'osso residuo, che la fa da padrone per decidere il tipo di terapia e come vedete all'epoca si riteneva di poter riabilitare diciamo con un inserimento implantare standard quando si aveva a disposizione perlomeno 10 mm di cresta ossa residua, si passava poi ad un rialzo di seno con un approccio crestale. All'epoca esistevano solo gli osteotomi per fare l'approccio crestale, infatti si parla di osteotome technique, ma si riteneva di aver bisogno di almeno 7-9 mm. Quando si aveva meno di 7 mm di altezza di osso disponibile si passava direttamente ad un approccio di tipo con finestra laterale, rialzo di seno con approccio laterale che poteva essere accompagnato dall'inserimento simultaneo degli impianti oppure no. Quindi inserire gli impianti al termine del consolidamento del graft se la stabilità primaria delle fixture non era assicurata a causa della quantità minima di osso nativo. Voi capite che in realtà parliamo di un'altra odontoiatria, parliamo di odontoiatria in cui si usavano impianti innanzitutto con una superficie macchinata e sappiamo che la performance di questo genere di impianti è stato dimostrato essere non assolutamente favorevole nel caso della riabilitazione in osso di scarsa densità, quale il mascellare posteriore, a meno che questi impianti non abbiano una certa lunghezza. Quindi all'epoca l'utilizzo degli impianti short in quest'area era un pochino diciamo lasciato da parte. Se però noi andiamo a vedere, e vi elenco qui tre delle meta-analisi più recenti sull'argomento di impianti short alla luce degli studi che invece si sono condotti nell'arco di questo ultimo ventennio, diciamo così, tutte queste meta-analisi che vengono da ambienti culturali, da autori diversi, diciamo, sono assolutamente concordi esaminando quella che è la letteratura che c'è un'evidenza di qualità moderata che supporta l'utilizzo di impianti corti anche in quest'area della bocca. Perché gli impianti corti, come corto intendo 6 mm, presentano perlomeno nel medio termine un survival rate comparabile rispetto a impianti più lunghi inseriti in combinazione con procedure di rialzo di seno, ma meno complicazioni biologiche, meno perdita di osso marginale e una ridotta durata della terapia e dei costi del trattamento, chiaramente. Quindi la domanda vera è, è veramente necessario oggi coinvolgere in qualche modo il seno mascellare nel nostro piano di trattamento quando abbiamo un'altezza di osso residuo che è di 5 mm o più di 5 mm? E questa è la prima domanda che dobbiamo porci rispetto ai dettami della Sinus Consensus Conference del 1996, perché nel momento in cui noi decidiamo di coinvolgere nel nostro piano di trattamento il seno mascellare, inevitabilmente ci prendiamo qualche rischio in più. Vi faccio vedere questo lavoro abbastanza recente uscito per la scuola di odontoiatria dell'Università del Michigan, quindi guidata da Homley Wang, che hanno fatto un'analisi retrospettiva dei pazienti da loro trattati in chirurgia orale per odontale implantare dal 1990 al 2018. All'Università del Michigan hanno trattato più o meno 4.000 pazienti, 3.900, e quello che hanno notato è che la rimozione degli elementi inclusi e il rialzo di seno con approccio laterale erano le due procedure che hanno prodotto la maggior incidenza di complicanze e anche le complicanze più severe. Quindi prima di mettere mano, passatemi il termine, al seno mascellare, devono esserci dei motivi seri. E anche se andiamo a vedere quello che può succedere con un rialzo cristale, i rischi non sono sicuramente trascurabili. Vi faccio vedere un case report che abbiamo pubblicato sul British Journal of Maxillofacial Surgery nel 2016 su un caso dell'amico Rosario Sentineri che ha fatto un approccio cristale in questo seno mascellare. L'anatomia del seno mascellare sapete benissimo che fa sì che questa struttura sia in contatto estremamente intimo con strutture anatomiche particolarmente sensibili e sicuramente il paziente che ha una problematica di tipo infettivo a livello del seno e che arriva dopo un rialzo cristale la settimana dopo in questa situazione cioè con una chemosi congiuntivale è un qualcosa che magari vi fa rimpiangere il fatto di non aver fatto se era possibile un impianto short in quel momento. La cosa poi è stata trattata in modo semplice con degli antibiotici con l'ausilio di un oculista e si è risolto tutto bene brevemente ma sicuramente quando noi andiamo a introdurre il rialzo di seno cioè il trattamento in qualche modo l'invasione del seno mascellare sicuramente introduciamo nel nostro piano terapeutico delle teoriche complicanze maggiori però sicuramente esistono casi in cui l'altezza di osso disponibile questi famosi 5 mm che ci possono consentire di inserire uno short non ci sono e quindi noi siamo diciamo costretti in qualche modo a cercare di aumentare l'altezza di osso disponibile. Sottolineo la parola osso perché lo scopo del rialzo di seno mascellare è creare un nuovo osso nel mascellare posteriore perché vogliamo del tessuto che sia in grado di supportare in modo aggiuntivo in modo efficace rispetto all'osso nativo l'impianto che noi inseriamo cioè deve essere un tessuto in cui l'impianto si possa integrare in cui l'oste integrazione si possa mantenere nel corso del tempo e il tutto dovrebbe succedere con una certa predicibilità. Perché sottolineo osso? Perché la radiografia non basta. Queste sono due carote prese da due rialzi cristali fra l'altro che ho fatto io stesso e vedete la carota A e la carota B. A1 e B1 sono due particolari della carota vedete che sono completamente diverse a parità di biomateriale utilizzato. Vedete nella carota A in particolare in A1 vedete come ci sono degli abbondanti ponti ossei vedete tutto il tessuto contrassegnato con la B è osso neoformato che va a unire le particelle di biomateriale che sono contrassegnate in un asterisco. Nella carota B e vi assicuro che radiograficamente il risultato era splendido ma da un punto di vista istologico questo non è osso questo è biomateriale granuli contrassegnate degli asterischi immersi semplicemente in un tessuto fibroso quindi questo tessuto non darà alcun tipo di aiuto aggiuntivo rispetto all'osso nativo al nostro impianto. Per capire e per analizzare come dobbiamo affrontare in modo razionale la nostra chirurgia dobbiamo partire a capire perché e come si forma l'osso all'interno del seno perché questo è il nostro obiettivo. In realtà è semplicemente il risultato del trauma chirurgico legato allo scollamento dello strato periostale della membrana di Schneider dalle pareti osse che evoca un sanguinamento quindi la formazione di un coagulo e c'è la solita cascata con la produzione di citochine rilascio di fattori di crescita che qui vedete elencati e tutto ciò ha lo scopo di reclutare delle cellule mesenchimali osteoprogenitrici stimolarle nella differenziazione in senso osteoblastico in modo che possono produrre nuova matrice ossea che poi diventerà l'osso neoformato. Nel frattempo a queste cellule deve arrivare il supporto di un'abbondante neoangiogenesi che quindi ci consenta di avere a disposizione ossigeno per il metabolismo cellulare e nutrienti chiaramente. Ma queste cellule e questa vascularizzazione noi all'interno del seno macellare dove li troviamo? Beh se entriamo all'interno del seno macellare dopo aver scollato la membrana ovviamente ci può arrivare da quello che vediamo in giro cioè dalle pareti osse che sono la laterale la mediale l'anteriore a volte è il pavimento del seno e dalla sovrastante membrana di Schneider. Innanzitutto non tutti i seni macellari non tutte le stanze sono uguali le dimensioni del seno le caratteristiche anatomiche la fanno da padrona e qui spendo una parola per capire in modo una volta per tutte diciamo così come misurare come è misurato in letteratura per capirci la larghezza del seno macellare. Beh c'è accordo diciamo fra le persone che hanno pubblicato finora in letteratura nel misurare il seno macellare ad un'altezza di 10 mm nel sito in cui andiamo ad inserire l'impianto 10 mm compresa la cresta ossea residua quindi non dal pavimento del seno ma comprendendo tutta la cresta ci alziamo 10 mm a 10 mm tiriamo una perpendicolare ed andiamo a misurare la larghezza del seno in quel punto dalla corticale della parete laterale alla corticale della parete mediale. Bene questa ampiezza del seno quindi l'anatomia sinusale molti studi ci dicono che diciamo influenza in modo sensibile la neoformazione ossea e in particolare che c'è una forte correlazione inversa tra la produzione di nuovo osso e la larghezza del seno macellare. Questo lavoro seminale di Gustavo Avila del 2010 pubblicato sul journal of periodontology ci dimostra che facendo un rialzo di seno macellare con approccio laterale vedete questi sono i dati dell'articolo all'allargarsi delle dimensioni del seno in senso buco palatale diminuisce la quantità di osso che noi ritroviamo dopo sei mesi al momento della biopsia vedete che il gruppo di seni di questo studio che avevano una larghezza inferiore ai 10 mm quindi i seni stretti avevano il 31% di osso neoformato dopo sei mesi se ci allarghiamo dai 10 ai 15 mm l'osso scende al 25 se prendiamo solo i seni francamente larghi cioè più larghi di 15 mm ripeto a 10 mm d'antezza compresa la cresta residua scendiamo addirittura al 13%. Questi risultati sono stati poi confermati da un lavoro del nostro gruppo anche sul seno cristale sul seno cristale vedete che le situazioni ancora più estrema perché nei seni stretti cioè più stretti di 12 mm abbiamo un ottimo 36% di osso neoformato medio dopo sei mesi nei seni medi invece tra i 12 e i 15 mm vediamo che la quantità di osso medio scende al 13% e vedete i segni larghi ci danno un risultato sconfortante cioè abbiamo solamente il 3% di osso neoformato dopo sei mesi. Ma la membrana di Schneider ci aiuta in tutto questo? Bene è stato dimostrato da vari studi in vitro su animale che in effetti all'interno della membrana di Schneider sono contenute delle cellule mesenchimali osteoprogenitrici che possono diciamo teoricamente contribuire a quella che è la neosteogenesi però la maggioranza degli studi e vi riporto questa revisione sistematica sempre del gruppo dell'Iowa di Gustavo Avila Ortiz che ci dimostra che includendo 26 studi sull'argomento non c'è evidenza che in effetti la membrana dia un contributo dal punto di vista clinico significativo alla formazione di nuovo osso. In altre parole la membrana teoricamente lo può fare il nuovo osso ma la quantità di osso imputabile effettivamente alla membrana di Schneider è minimale in rapporto al nuovo osso formato grazie all'apporto delle pareti osse e del pavimento del seno mascellare. Quindi questo cosa significa? Significa che a prescindere dal tipo di approccio che noi vogliamo affrontare che sia un seno laterale che sia un seno crestale noi abbiamo bisogno di uno scollamento adeguato della membrana in modo da liberare le pareti osse e da portare il nostro coagulo e il nostro graft a contatto con le pareti osse stesse. Sia che noi scegliamo l'approccio crestale sia che noi scegliamo l'approccio laterale l'obiettivo deve rimanere questo. Quando scegliamo un approccio laterale noi abbiamo il vantaggio che lo scollamento della membrana lo possiamo condurre manualmente vedendo quello che facciamo ed arrivando a scollare la membrana fino ad arrivare alla parete mediale del seno come vedete in queste cross section di una con beam post operatoria e a portare il nostro graft tranquillamente a contatto con la parete ossea mediale del seno mascellare. Diversa è la situazione quando si parla di approccio crestale perché nell'approccio crestale lo scollamento non è diretto non lo facciamo noi con le nostre mani ma è indiretto viene prodotto dall'inserimento incrementale di quantità di biomateriale all'interno del seno o da un scollamento idrodinamico utilizzando della soluzione fisiologica veicolata o meno. Bene nel lavoro che vi ho citato prima siamo andati a vedere un pochino anche questo in questi 44 pazienti siamo andati a vedere a fine diciamo chirurgia in quanti pazienti la membrana era scollata in modo efficace vale a dire con il graft a contatto con entrambe le pareti laterale e mediale era più o meno la metà dei pazienti 54 per cento mentre il 22 per cento dei pazienti avevano il graft in contatto o con la parete laterale o con la parete mediale e il 22 per cento restante dei pazienti avevano il graft che era diciamo contenuto solamente al di sotto della membrana di schneider senza raggiungere il contatto né con la parete laterale né con la parete mediale è superfluo sottolineare che i seni in cui questo succedeva cioè questo dom questa diciamo inclusione del biomateriale di sotto la membrana erano i seni più larghi nei quali alla fine trovavamo poco osso a guarigione avvenuta quindi lo scollamento della membrana dai seni larghi è un accadimento non predicibile fra l'altro vi porto anche un risultato preliminare che non c'entra in questo articolo ma c'entra con uno che stiamo conducendo adesso che riguarda sempre i seni larghi nell'approccio cristale sempre con i tre moschettieri di cui ho parlato prima più diciamo con Rossano Mura con Michele Perelli e con Luigi Canullo che ha avuto l'idea siamo andati a fare un'analisi retrospettiva dei rialzi di seno cristali condotti da tutti noi nell'arco degli ultimi vent'anni con varie tecniche e con vari biomateriali abbiamo escluso sui quasi 700 rialzi di seno cristali che abbiamo trovato ne abbiamo esclusi 336 perché erano quelli più antichi forse in cui il rialzo di seno cristale si faceva con una quantità di osso di residuo superiore ai 5 mm abbiamo incluso solo quelli che avevano meno di 5 mm di altezza di osso residuo e ne sono rimasti comunque 447 nei quali abbiamo registrato 32 perforazioni quindi il 7 per cento due perforazioni sono accadute in seni stretti 180 seni stretti quindi più stretti di 12 mm solamente l'1 per cento di incidenza guardate un po 27 perforazioni quindi il 16 per cento sono avvenute in cavità sinusali più larghe di 12 mm qui ne manca qualcuno vedete 27 più 2 fa 29 ne mancano 3 per le quali non era reperibile la documentazione radiografica tridimensionale quindi non sapevamo quanto era largo il seno scellare stesso comunque vedete che la differenza di rischio diciamo di perforazione fra seni larghi e seni stretti è dal punto di vista statistico altamente significativa in buona sostanza succede questo ringrazio l'amico davide farronato per questi disegni schematici quando noi abbiamo un seno stretto inseriamo il biomateriale biomateriale scolla la membrana dalle due pareti e la membrana viene rialzata senza tensione viceversa quando abbiamo un seno largo noi continuiamo a inserire il materiale la membrana rimane aderente al pavimento nella parte diciamo larga prima di arrivare alla parete verticale e c'è il caso soprattutto con membrane strette di andare più facilmente incontro ad una perforazione della membrana stessa che rimane in tensione e non si libera immediatamente come accade nei seni stretti quali sono le implicazioni quindi di queste cavità sinusali larghe diciamo maggiore di 12 ma sicuramente dal 15 in su beh ci sono delle implicazioni cliniche significative innanzitutto nella scelta dell'approccio chirurgico per affrontare questo seno macellare vedete questo a destra largo 20 mm circa è un seno che difficilmente ci può dare dei buoni risultati con un approccio cristale ci deve anche dare dei suggerimenti sulla selezione del graft se abbiamo un seno molto largo sappiamo che un seno biologicamente sfavorevole quindi è un seno in cui varrà la pena magari selezionare un graft un pochino più performante magari chiara abbia anche qualche capacità osteoinduttiva se fosse possibile magari un seno largo va lasciato guarire un po di più non bastano i classici 5 6 mesi ma magari aspettiamone 7 o 9 di mesi per dare tempo di ottenere una conversione migliore e valutiamo bene il numero degli impianti da mettere se abbiamo un seno biologicamente sfavorevole largo magari aumentiamo il numero degli impianti non facciamo magari ponti lunghi su impianti inseriti in osso rigenerato in seni di questo tipo o andiamo ad inserire gli impianti nelle zone del seno che sono più favorevoli cioè quelle più strette trascurando le aree in cui la cavità è assolutamente larga ultima cosa da sottolineare il discorso del mini rialzo cioè se è vero che il rialzo di seno macellare può diciamo risultare solo in elevazioni minime della membrana questo succedeva all'inizio ultimamente a seconda delle a prescindere delle tecniche uno possa utilizzare scegliendo il seno giusto vedete seni stretti quindi vedete questo esempio un seno in cui abbiamo anche la presenza di un setto di underwood che ci ostacola un pochino ma scegliendo il seno giusto il posto giusto in questo caso mesialmente al setto da 3 mm di osso residuo questo è l'impianto inserito dopo sei mesi di guarigione vedete che già il graft comincia ad organizzarsi bene e vediamo il risultato a cinque anni di distanza con un'ottima stabilità del del tessuto neoformato e addirittura con la formazione di una nuova corticale apicale all'impianto stesso vi faccio vedere ancora un caso per darvi un'idea se ci si vuole divertire ed avendo ripeto il seno giusto c'è un seno stretto in questo caso ad esempio da 4 mm si è arrivati per via cristale a 22 mm non sono cose utili sono state fatte quasi da un punto di vista diciamo accademico per capire i limiti della tecnica ma sicuramente il cosiddetto mini rialzo non deve essere chiamato mini perché vi consente un risultato in termini d'altezza minimo ma casomai per quanto riguarda la mini invasività quindi riassumendo per finire il trattamento minimamente invasivo del mascellare posteriore deve essere diciamo graduato in questo modo cioè la prima opzione dovrebbero essere impianti corti laddove è possibile se non c'è abbastanza osso in altezza per poter inserire degli impianti corti si deve pensare alla possibilità di fare un rialzo di seno con approccio cristale se l'approccio cristale non è indicato si passa poi all'approccio laterale abbiamo concluso questo articolo proponendo proprio un vero e proprio albero decisionale per aiutare il clinico diciamo nella selezione dei casi migliori per i vari tipi di tecnica si parte anche in questo caso dall'altezza dell'osso cristale che ci deve servire a capire il tipo di tecnica da utilizzare nel senso rialzo di seno versus impianti corti se abbiamo tra i 5 gli 8 mm di altezza di osso residuo bene possiamo non pensare al seno macellare andare direttamente ad inserire uno short implant se invece l'altezza del seno scusate l'altezza dell'osso residuo sul seno macellare è meno di 5 mm tra i 3 e 5 mm probabilmente riusciremo ad inserire l'impianto in prima battuta perché riusciremo ad ottenere della stabilità primaria soddisfacente in questo caso andiamo a misurare l'ampiezza del seno ripeto a 10 mm compresa la cresta residua e se il seno è stretto vale a dire 12 mm o meno di 12 mm possiamo fare un approccio cristale ed inserire l'impianto contestualmente se il seno invece è largo cioè più largo di 12 mm è consigliabile fare un rialzo di seno laterale con l'inserimento simultaneo degli impianti viceversa se abbiamo meno di 3 mm di osso in cui non è predecibile ottenere una stabilità primaria sufficiente per l'inserimento implantare dobbiamo fare delle tecniche two stage ma il criterio di scelta deve essere sempre quello dell'ampiezza del seno macellare misurato a 10 mm d'altezza anche in questo caso nei seni stretti 12 mm o meno faremo un approccio cristale anche se abbiamo solo un millimetro di osso residuo aspettiamo il consolidamento e sei mesi dopo otto mesi dopo inseriamo l'impianto viceversa se il seno è largo più di 12 mm e più è largo più avrà necessità ripeto anche di tempi di guarigione facciamo un approccio laterale aspettiamo la guarigione e al termine inseriamo l'impianto concludendo gli impianti corti rappresentano attualmente un'alternativa terapeutica anche nel macellare posteriore superiore valida a condizione che si abbiano almeno 5 mm di osso residuo di altezza ovviamente bisogna avere anche lo spessore adeguato come vale sempre in implantologia entrambe le tecniche di rialzo di seno quindi sia laterale che cristale ci consentono un considerevole aumento verticale a prescindere da quale sia l'altezza dell'osso residuo e la scelta fra queste due tecniche cioè fra laterale e cristale sembra essere dettato dall'ampiezza bucopalatale del seno macellare stesso approfitto per anticiparvi che nel mese di settembre per le edizioni EDRA uscirà una guida alla riabilitazione impianto protesico del macellare posteriore atrofico fatta con l'aiuto dei colleghi bernardello lombardi spinato e con la collaborazione di altri colleghi che sono tra l'altro associativi dell'ipa come roberto di lenarda come marco mozzati come tonino traini con l'aiuto anche di due autorini come giancarlo tirelli e margherita tofanelli che inquadreranno il paziente candidato a rialzo di seno dal punto di vista torino ringoiatrico e con l'aiuto di maurizio zilli past president dell'iop che ha scritto un bellissimo capitolo su quel che riguarda la riabilitazione protesica degli impianti inseriti in osso rigenerato o impianti corti vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando al prossimo video che qualche collega dell'ipa registrerà fra breve per ulteriori approfondimenti sull'attività scientifica della nostra accademia grazie